Ciao Abbiamo... Si? Mi state ascoltando? Si dimmi che abbiamo prelevato Abbiamo prelevato una diva Una diva? Un'altra? Gina Lollabrigida Claudio con me Gina Lollabrigida Che sorpresa Buonasera Gina Lollabrigida Buonasera Claudio Baglioni Buonasera che bel ragazzo Anche lei per il gioco delle otto cose Grazie per essere qui Anche lei per il gioco delle otto cose Possiamo portare la sedia Grazie che bella casa che c'hai Non è una casa è uno studio televisivo Ah si? Mi piace Mi fa piacere Claudio ci aiuti tu a fare il gioco delle otto cose Allora se cortesemente Allora prego Posso solcare Che bella valletta che c'hai Non è una valletta Sei tanto simpatico Grazie tanto Si si sega è meglio che ci sediamo Posso solcare questo Anche perché se lei non si siede non può passare Claudio Signor Lollabrigida la sedia è questa Posso aiutarla a tirare la rete? C'ho un secolo di stracico scusi E' venuta abbondante C'ho una quintalata mi scusi Lei si segua? Ecco la ringrazio Questo è un paracadute Sono atterrata Bello Bello de casa Signor Lollabrigida Signor Lollabrigida Scusa scusi La devo mangiare Signor Lollabrigida No non mi fa E' la storia della mia vita Signor Lollabrigida Mancavo lei guardia interpretato il suono di tutti noi Solo una curiosità signora Signora Lollabrigida E' del film pare amore e fantasia C'era il ciucciariello Si ricorda? Si come non mi ricordo E' morto? E' schiattato Tutta la poesia è finita Bello Non mi veni sotto al vestito Fermate là Che te conosco Signor Lollabrigida Che cosa ne facciamo di questa rete? E non lo so Se la vuole mettere la valletta No la valletta Deve fare A dare una confezione Deve fare con me il gioco delle otto cose Quello che ha fatto la signora prima La signora cardinale prima Si Ecco Otto cose per conoscerla meglio Si Ecco io Che ha scelto la signora prima di me? Che ha portato a casa alla fine? Ha portato un'opera d'arte Una madonna del 600 Che era stata regalata Però questo Lei deve scegliere per sé Si Io ho certe madonne A casa Forse del novecento Dell'ottocento Potrei portarle Signor Lollabrigida E' una serata difficile questa Per favore Cerchiamo Ecco Poi c'è Claudio Baglioni Che è timido di natura Quindi non scandalizziamo Ecco Allora Qualche lezione privata Stia buona La prima cosa che lei vuole portare con sé Nel nuovo secolo Si Oh Di sé Di me? Si Beh intanto Me Si Ecco Solo che gioco E' più A tempi più brevi Se lei la prende così alla lontana Si Non scriveremo mai più Ma questo è il mio Lei deve dire otto cose I miei tempi di capire E' va bene i miei tempi di capire Per comprendere Ecco Come diceva giustamente Giacca Cortali Che Giacca Cortali? Come si chiama? Giacca Cortali Felice Caccavo Che dice Caccavo Che dice Caccavo Si Io porterei volentieri il ciuccio Il ciuccio Il ciuccio Il ciucco Il ciucco Il ciucco Il ciucco Il ciuccio Si Scrivi Ciuccio Arrivo C'è il microfono aperto di Moira Orfei Bisogna chiuderlo Si No 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 C'è il microfono aperto Quindi ciucco o ciuccio? Ci ha detto qualche parolaccia No No ciucco No abbiamo rimediato Allora benissimo Il ciucco Mi ha sempre portato fortuna Certo con la bersagliera e poi anche l'anno scorso quando mi sono presentata a quelle che si eleggono alle elezioni non si può dire perché sono le supplettive mi ha portato tanta fortuna non è vero perché non l'hanno eletta? no, mi hanno portato fortuna apposta non mi hanno eletta se mi eleggevano non sapevo che dire mi ha portato fortuna è stata una fortuna diciamo l'asino il cuccio ce ne sono ancora sette Claudia ti auguri ma tutte io le devo dire l'intervista è per lei me compili sto foglio lei mi ci dista due cose a piacere è difficile per me come faccio a compilare due cose a piacere ciao belli due cose a piacere un'altra cosa con calma mi porterei la barrocazza anzi le barrocazze le parrucche lei non le ha questi sono capelli sono capelli di parrucca capelli di parrucca l'ho sempre portata mi sta tanto bene va bene la parrucca le parrucche le parrucche ho capito le parrucche le parrucche ecco e poi ma riempime l'IVA ma non è l'IVA non è l'IRPEF è un gioco lei deve dire otto cose è difficile ma non è difficile come è difficile e mi porterei un'altra cosa mi porterei mi porterei a casa te no ma come non sono sempre il suo gioiello più bello io e poi mi porterei io non valgo le persone non valgono no se c'è un microfono aperto no ve lo disse non fazio non vuole venire signora L'Obrigida ci sarei io sì no le persone non valgono le persone e perché hai a te no infatti ho detto che non valgo io non valgo io e io non sono la persona sono l'animale no cacca mo simpatico bello guardi per favore che poi Baglioni deve cantare mi posso portare le patacche le patacche cosa sono le patacche le patacche sono queste la bisotteria i brillocchi i brillocchi ma pure tutti ci metti no la signora non ama diciamo l'alta gioielleria preferisce la bisotteria giusto quella delle marocchini mi piace tanto sì va bene con quelli lenzoli per strada sì quelle belle patacche le patacche questo va per terzo patacche per terzo patacche sì ecco poi poi un gusto un sapore un che so una cosa che ha detto la signora prima di me non si può il couscous ha detto il couscous il couscous il couscous anch'io grazie il couscous anche lei e del vino rosso come è del vino rosso non lo so che ne stai auguri da mangiare no lei mi ha chiesto cosa ha detto la signora prima il couscous anche lei il couscous ma non col pesce non col pesce ma con le cotiche con le cotiche è la morte e la morte è la morte e la morte non lo mangia la morte è la morte il couscous con le cotiche non sono d'accordo io sto pensando a cosa pensa Claudio che nella sua vita non ha mai neanche pronunciato la parola cotiche non sape neanche che esistesse no non è vero qualche volta prendo anche il caffè e latte con le cotiche quante simpatica stava a lei non è una cosa meravigliosa un libro ma quante ci sono ancora ancora cinque non è che questa domanda per il militare non è la domanda per il militare è uno schedario ma non è uno schedario è un gioco ancora quattro cose un libro un libro che lei consulta tutti i giorni che senza il quale non può vivere un libro che consulto l'elenco telefonico si può portare si come perché si fa si l'elenco del telefono il telefono va bene l'elenco del telefono si va bene tutti e due a l a l leggo fino a lollo fino a lollo leggo fino a lollo fino a lollo certo ecco una a lollo non so mi faremo poi una caratteristica invece sua proprio personale che la fotografa in qualche modo che dice di lei tutto io sono fotografa come lo sai bello no lo sanno tutti questa signora non rida così lo so che io ho detto una caratteristica che la fotografa non lo so se c'è una caratteristica che mi fa foto ma no non ho detto una caratteristica sua d'animo me la dica lei abbia pazienza la sobrietà la semplicità la semplicità la semplicità la semplicità e la morte sua e la morte sua sì e la semplicità anche la semplicità la semplicità ultima due due ne manca due? ancora due quanti mancano? due cose ancora sì un momento un momento particolare della sua carriera sì quando ho fatto Miss Italia quando ha partecipato a Miss Italia ho fatto Miss Italia no ha partecipato non ha vinto lei ha vinto come lo sa lei e lo sanno tutti lei ha partecipato non ha vinto ha vinto Sofia Loren un po' invece a Miss Italia sì a quel tempo c'erano tante raccomandazioni non si vinceva per merito non dica cattive si vinceva per raccomandazioni l'esperienza di Miss Italia non è vero non cadrò nella trappola non è vero cosa? perché dice raccomandazioni non è vero lei parla in un modo curioso lei parla io non la capisco ho detto non è vero che c'erano le raccomandazioni sì diciamo portiamo a lei piace la Loren molto la porterebbe nel prossimo secolo sì ah ma arriva? non dica cattiverie no si cattiva non dica cattiverie questo è una cattiveria rossa vabbè allora lo scriverò a Miss Italia ne manca uno ha girato scene indimenticabili di film la Loren sì questo è vero però vede nella scena dello spogliarello con Marcello Mastroianni quella è una controfigura vabbè basta abbiamo capito non è vero è una controfigura perché la Loren se nello spogliarello si intrigava con le calze ciampicava sui tacchi diciamo la Loren non è nelle sue simpatie e l'hanno fatta due o tre volte e poi alla fine hanno preso l'aiuto sarta va bene va perfetto è una controfigura una controfigura il chirurgo il chirurgo mi pare tanto bravo una brava persona va bene la medicina adesso questo gioco diventa più complicato si è tolta una patacca mi si è tolta una patacca la vorrei dare alla valletta per portarla nel prossimo secolo una patacca c'è un lobo destro dell'olio è perfetto ed è Abdul mi è rimasto anche un po' di lobo va bene questa è tutta tua fra il ciucco e le perrucche che cosa porta? ah il ciucco il ciucco fra le patacche il couscous con le cotiche le patacche le patacche va bene oppure le cotiche senza couscous però deve scegliere le patacche o il couscous con le cotiche le patacche le patacche va bene fra l'elenco del telefono AL e la semplicità le patacche le patacche le hai già dette prima riscriviamo patacche per semplicità patacche patacche riscriviamo patacche fra Miss Italia e il chirurgo le patacche le patacche ne sono tanto affezionata siamo arrivati fra il ciucco e le patacche 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 bene ce l'abbiamo fatta la finale la finale finito le patacche le patacche le patacche quindi la Lollo porta le patacche le patacche io la ringrazio molto per essere stata con noi adesso dobbiamo andare tutti nella stiva compreso il suo strascico di 400 metri che è una città dove mi portate la nostra tia vuole salutare Claudio Baglioni sì sia signora grazie tanto a un'altra occasione un'altra occasione ciao ecco bello ciao bello bello scusi eh a tutti i bani a preparare io la ringrazio per essere stata con noi grazie alla signora Lollo mi saluti tanto Anna Marchesini che io non vedo più perché adesso incomincio a teatro quanto mi piace quella ragazza all'Olimpico a Roma dal 26 novembre quindi io non la posso più salutare mi la saluto ma me la saluta lei grazie signora Lollo arrivederci sempre dritta grazie Lollo grazie molto se l'inciantico chiamate qualcuno d'accordo arrivederci arrivederci ciao bello grazie a tutti